sono le 10 e 26 naturalmente di sera ci siamo ci siamo ritirati che ora sto rispondendo ai vostri commenti e vi voglio fare vedere dove sta dormendo in cucina con me o non mi lascia mai solo è sempre presente in silenzio ma vicino e vicino a lui e ve lo faccio vedere come è bello ma voi ho pulito le zampe ho pulito le orecchie e ora sto sapendo ora sì abbiamo trascorso una bella giornata insieme siamo andati al porco lo su pasquale sul piazzale della chiesa del redentore naturalmente con i suoi bisognini e ci siamo ritirati belli stanchi e felici noi io e con vi auguriamo una buona notte a tutti e vi vogliamo tanto bene veramente grazie per i vostri bellissimi commenti sto cercando di rispondere a tutti senza trascurare nessuno spero che nel tempo spero che nel tempo possa impegnarmi sempre di più a farvi vedere con e rispondervi alle vostre belle frasi belle parole dei commenti e che dire vogliamo bene Gohan e Giacomo vi vogliono bene buonanotte grazie 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 grazie